Grazie a tutti. Voglio un attimo spiegarvi che cos'è questo cuore. Ce l'ho su questa maglietta, come vedete c'è un cuore che è il simbolo della dignità e della bellezza delle nostre coppie. In questo momento le coppie fatte da due uomini e da due donne in Italia non hanno nessuna tutela, nessuna legge e nessuna dignità sociale. Noi sappiamo benissimo che i nostri amori non valgono meno degli altri amori, i nostri amori non possono essere considerati amori di serie B. Però l'amore non basta. I nostri amori sono bellissimi ma l'amore non basta se non ci sono delle leggi, se non ci sono delle tutele, se non ci sono delle garanzie che questo Stato dà solamente alle coppie eterosessuali. Ed è per questo che al centro del nostro cuore c'è un uguale, perché noi vogliamo uguali diritti, noi vogliamo le stesse identiche leggi, le stesse identiche tutele che hanno tutte le coppie. Ed è per questo che questo cuore è il simbolo di una campagna, la campagna per lo stesso sì, la campagna che ci deve portare avanti fino a che non otterremo anche in Italia il matrimonio civile, l'allargamento del matrimonio civile così com'è anche alle persone e alle coppie gay e lesbiche. Noi non saremo contenti, noi andremo avanti fino alla fine, noi andremo avanti finché in tutti i comuni in Italia le coppie di due donne e di due uomini potranno andare davanti al sindaco e quindi qua a Reggio Calabria, davanti al sindaco Falco Matama, in tutte le città, le città grandi, le città piccole, come fanno tutte le altre coppie. Perché l'uguaglianza è un diritto fondamentale di ogni persona. Voi sapere che in questo momento in Parlamento si sta discutendo una legge, una legge portata avanti da una grande senatrice, una grande amica del Movimento, la senatrice Cirinna. È una legge che non ci accontenta, è una legge che non ci piace fino in fondo perché è una legge che propone le unioni civili. Sembra che questo Parlamento non sia pronto, sembra che questo Parlamento non voglia capire la voce del Paese e la voce del Paese secondo me vorrebbe il matrimonio come c'è in Francia, come c'è in Spagna, come c'è in Portogallo. Purtroppo abbiamo una classe politica inadeguata, una classe politica che non è sintonizzata sul vero sentimento del Paese. Questa legge, nonostante sia una legge già di compromesso, una legge che non porta alla fine uguaglianza, questa legge sta avendo tantissime difficoltà in Parlamento. Stanno cercando di bloccarla, stanno cercando di rallentarla. Ci sono alcuni politici, troppi politici senza cuore e politici senza senso che vorrebbero sminuirla ancora di più. Noi siamo vicini alla senatrice Cirinna perché questa legge porterebbe l'Italia a fare un grande passo avanti verso la civiltà, porterebbe la sicurezza, porterebbe una certa sicurezza all'interno delle proprie che ancora ci sono. Io vorrei che fosse chiaro una cosa, anche quando sarà approvata questa legge, perché questa legge sarà approvata prima o poi in autunno, si spera, anche quando sarà approvata questa legge noi non molleremo, anzi rilancieremo ancora più forte la nostra campagna perché anche in questo Paese si arrivi ad avere il matrimonio. Matrimonio civile significa avere la completa e totale uguaglianza per tutte e per tutti. E' per questo che questa campagna ha questo simbolo, ha questo cuore che io vi chiedo ancora una volta di alzare, facciamo una specie di countdown come Capodanno, per cui al cuore giù, mi raccomando, girate il cuore dalla mia parte, perché ha una doppia faccia, i cuori girati dalla mia parte, magari dritti nel senso giusto. Allora facciamo il countdown, 5, 4, 3, 2, 1, facciamo vedere il cuore, il cuore di mezzo Calabria, questi cuori che si alzano e si alzano forte i piedi alla faccia di tutti i parlamentari, di tutti i politici che ancora seminano l'odio e il disprezzo verso le persone gay, lesbiche e trans. Questa sarà la battaglia e sarà il simbolo che porteremo avanti e andremo avanti finché arriveremo alla legge che finalmente ci porterà alla completa e totale uguaglianza e ad avere anche in Italia il matrimonio civile per tutti. Siete davvero bellissimi, io spero che i fotografi abbiano fatto abbastanza forte, mi raccomando, mettete queste foto subito su Facebook, su Instagram, su tutti i social, perché queste foto devono girare, devono far vedere che anche da Reggio Calabria la richiesta di uguaglianza sta salendo forte come in tutto il resto del paese. Grazie, grazie a tutti e buon Pride! Grazie a tutti!